We Believe in Music We Believe in Music Siamo ritrovati al consueto appuntamento del sabato come al solito We Believe in Music è tornato Sono le ore 17.00 Una spaccataggine completa oggi Purtroppo oggi il mio compagno di viaggio non è presente per impegni personali Però sono da solo qui, anzi non da solo, sono con Angel White al comando della postazione tecnica Il nostro ospite è già pronto, forse lo vedete già in video Però vi anticipo tra poco di chi stiamo parlando e di cosa parleremo Ti tengo un attimo in suspense da questa parte Vi invito a rimanere all'ascolto di Radio.musica Oggi avremo nuovamente due ospiti Il primo è già pronto però vi anticipo pochissimo Vi invito a rimanere con noi Vi ricordo il nostro numero Whatsapp per raggiungerci al 393 2824 444 Vi ricordo anche il nostro sito internet www.radio.musica.com La nostra pagina Instagram We Believe in Music Cercateci, iniziate a scrivere quale è la domanda che volete porre al nostro ospite E intanto mettiamo un disco Mettiamo un disco, lo ascoltiamo Nathan Dave con 21 Reason Forse riusciremo oggi nonostante le intemperie Sì perché questo tempo di questi giorni, questa estate passa E ci porta l'acqua e poi ci porta il sole Oggi è tornato il caldo ma c'è molto molto vento in giro Ascoltiamo un disco e vi invito a rimanere con noi ancora Ascoltiamo un disco 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 artistico Ascoltiamo un disco Ascoltiamo un disco Graffiato Ascoltiamo un disco 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 Ravelli e in pratica questo brano parla appunto della musica dove ho pensato appunto ai tanti anni che ho passato a cantare tra karaoke in cameretta ma senza darci molto peso e appunto da due anni a questa parte che ho iniziato a scrivere canzoni a studiare canto comunque mi sono fatto un esame di coscienza ho pensato che forse dovevo iniziare un po prima a mettermi a scrivere e quindi ho dedicato questa canzone alla musica e appunto prima la consideravo un passatempo adesso è una cosa molto più seria ti stai impegnando ovviamente questa è una domanda è una una mia considerazione che faccio più o meno a quelli che vengono da noi e tu non riesci a fare di questo il tuo mestiere ancora però è quello che vorresti fare sì lo spero però sì al momento non ancora dobbiamo avere altri introiti dovranno passare penso un altro po di anni ecco in base a questo qual è la tua previsione per il per il futuro cioè dove ti vedi da qui a tot anni allora spero che non so tra un anno due anni riesco a riuscirò a buttare giù un disco un lp comunque con cinque sei brani e poi chi lo sa qualche concertino ma anche nel mio paese non ora non vedo cose molto in grande perché comunque non posso fare previsione spero che la strada sia lunga e piena di soddisfazioni quello che ci auguriamo e quello che auguriamo a tutti coloro che vengono da noi quindi subito l'involca al lupo e che tutto vada grazie come tu prevede che vadano le cose intanto le basi ci sono già dal primo disco il primo ascolto è quello che mi ha dato un'ottima impressione anche perché il genere è quello che mi piace molto tranquillo soul e ti coinvolge anche nell'ascolto sì il testo di passatempo l'hai scritto in quanti giorni ti è venuto spontaneo lo scrivi su carta lo scrive al pc lo scrivi sul cellulare lo scrivo sul cellulare sì ho un'applicazione dove li scrivo tutti i miei testi e l'ho scritto in una settimana perché comunque frequentando la l'accademia del mio paese e ogni settimana io cerco di portare al mio professore domenico giannini un brano nuovo e quindi in una settimana che sono giusto sì sì certamente salutiamo spero sia l'ascolto e quindi in una settimana ho buttato giusto questo questo brano a proposito di ascolto ricordo alle amici a casa che potete interagire con noi al 393 28 24 444 inviare la vostra domanda il vostro pensiero il vostro saluto a vimine e vi invito a rimanere ancora con noi perché ascolteremo il prossimo brano che invece non è di tuo pugno è un brano che tu hai scelto di inserire nella playlist di oggi noi ricordiamo agli amici a casa che l'ospite fa quello fa il programma il programma lo dovete fare voi questo brano o hai deciso di inserire nella tua playlist e fa parte sicuramente è legato a qualcosa che a te ha smosso il motivo la motivazione per cui inserirsi si tratta di rag and bone con man si chiama human noi l'ascoltiamo come sempre però dopo ne parliamo un pochettino va bene grazie a tutti 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 we believe in music su radio punto musica questo sabato pomeriggio la scelta di questo brano è ovviamente legata al fatto che rientra nel tuo genere musicale sostanzialmente infatti questo è un mio cavallo di battaglia che porto comunque quando mi viene chiesto di portare una cover ed è stato la è stata la prima cover che ho iniziato a cantare a studiare nel mio percorso del del mio progetto musicale del mio progetto musicale del mio progetto musicale e appunto su di lui mi sono ispirato molto inizialmente per i miei brani perché comunque mi ci rivedo anche sul timbro vocale perché non dico che è uguale, è simile, è simile, si un po' graffiato, carico, quindi mi ha dato molta ispirazione. richiama molto questo tipo di voce perché è bello essere unici piuttosto che dire uguale a qualcun altro, anche se devo dire che mi richiamava un po' questa timbrica quindi nel tuo primo brano. ovviamente è legato proprio al tuo inizio del tuo percorso musicale che ricordiamo lo fai in accademia da due anni si figa questa cosa sono felice quando le accademie quando le scuole di musica chiamiamole così riescano a inculcare qualcosa di passione all'interno delle persone dei ragazzi e poi mi fa piacere anche che poi lo vengano a raccontare da noi quindi ben vengano queste scuole queste strutture che ringraziamo insomma per offrire questi servizi angelo c'hai freddo per caso tutto a posto no ti vedevo ti stavi coprendo cerco di sviare un pochettino i discorsi questo quest'estate abbiamo in cantiere qualche brano oppure allora per quest'estate no perché comunque passatempo è uscito da nemmeno un mese quindi penso che andrà per tutta l'estate per inizio autunno comunque settembre penso di pubblicare un nuovo brano che è quasi pronto ho già si può dire altri due o tre brani che devo sistemare però sono comunque quasi pronti quindi sistemare per te significa metterti in studio ascoltare riascoltare che dire qualche parolina un po la la top line la melodia giusto rifinirlo diciamo e in base a cosa tu scegli che questo va bene questo non va bene mi affido cioè mi affido mi mi faccio un'idea su quello che sta andando adesso sul mercato musicale quindi cerco comunque di andare di pari passo con quello che i giovani di adesso ascoltano per non rischiare di rimanere fuori perché purtroppo se non segui quella quella scia è una brutta parola da dire io mi rendo conto ogni volta lo diciamo che diventare commerciali è una brutta parola però perché si potrebbe uscire un attimino dal proprio io cioè cambiare l'idea di quello che potresti essere però mi rendo conto che chi è agli esordi ha necessità un attimino anche per farsi conoscere nella tua città quante occasioni possibilità ci sono per diventare un musicista cioè la domanda più semplificata ci sono i concerti la possibilità di esibirsi lo facciamo città per città abbiamo già sentito taranto conversano e tanti altri sono passati di qua cerignola sei forse uno dei primi che ci raggiunge abbiamo avuto una una ragazza di barletta mi ricordo all'epoca però cerignola è molto più tanta roba sì ma infatti penso che già da cerignola barletta c'è una differenza molto di perché barletta è più da barletta in su c'è molto più movimento posso dire che a cerignola comunque non ancora o forse perché ne vediamo sempre dalla questione covid non ancora si mette in moto la situazione però comunque qualcosa penso che quest'estate qualcosa ci sarà perché comunque gli altri anni organizzavano un programma comunque ricreativo per tutta l'estate dove in piazza fanno dei piccoli concerti esibizioni spettacoli comunque adesso ho il concerto che ha organizzato la mia accademia quindi qualcosa da lì parte e quindi ci esibiremo noi dell'accademia lì a cerignola con i nostri brani suoneremo dal vivo con una band quindi possiamo dire quando così allora il 28 di giugno allora se siete liberi il 28 di giugno presso i giardini di gemma che è una sala ricevimenti ci sarà appunto il palco con le nostre esibizioni che partono ragazzi da bambini di da sei anni fino penso sono io il più grande e quindi ci saranno esibizioni live sia musicali che anche vocali perché c'è anche lo studio di strumenti nella mia accademia perfetto perfetto questa è una cosa un'iniziativa lodevole insomma sì non in tutte le città è possibile dare spazio a questi questo tipo di eventi e quindi ne rendiamo ne rendiamo al comune di cerignavo non si dice rinnavo no ho sbagliato sono un po fuori da quel dialetto ne conosco più verso giù e poi ogni tanto mi esce il barese che è vicino è vicino il prossimo brano è sempre una proposta del nostro ospite vimine si tratta di mara sattei e ne parleremo sempre dopo l'ho ascoltato le volte che lo dico miliardi tu che mi fumi addosso io che riesco a arrabbiarmi a cartocci un pacchetto che è finito e mi guardi come il sole e la luna fossero come strani e tu non sai le volte che vorrei accontentarmi un semaforo rosso sembra durare gli anni e vorrei fosse un cerchio questa vita in più fasi che fa sempre più stretto che poi che poi mi prende di più e forse lo sai anche tu che poi mi perdo qua giù ma tu che ne sai c'è una canzone che poi ho scritto io che non parla d'amore forse si incastra dentro qualche addio che ha detto male a qualcuno fino a fargli un saluto e se il cuore fossero solo parentesi scriverei tanti auguri io l'ho imparato apposta quando ho perso un'altra corsa c'è un biglietto perso tra tutte le cose che c'è in borsa cerco te che sei finito nella tasca a destra dentro la mia testa che sei finito nella tasca a destra dentro la mia testa quante sono le volte che lo dico e mi pento cerco mille obiettivi e ne raggiungo mezzo vorrei dirtelo in primis in un pezzo che ho scritto che portasse fortuna sotto un cielo d'inverno e tu non sai le volte che son sveglia e mi fisso col rumore di un disco che è graffiato saltella e vorrei fosse un cerchio che io poi ricomincio che poi sempre più stretto che poi che poi mi prende di più e forse lo sai anche tu e poi mi perdo qua giù ma tu che ne sai c'è una canzone che poi ho scritto io che non parla d'amore forse si incastra dentro qualche addio che ha detto male a qualcuno fino a fargli un saluto e se il cuore fossero solo parentesi scrivere tanti auguri io l'ho imparato apposta quando ho perso un'altra corsa c'è un biglietto perso tra tutte le cose che c'è in borsa cerco te che sei finito nella tasca a destra dentro la mia testa che sei finito nella tasca a destra dentro la mia testa ben ritrovati amici di Radio.musica siete in collegamento con We Believe in Music all'appuntamento del sabato pomeriggio lo spazio degli artisti emergenti di casa nostra e non solo come in questo pomeriggio c'è Angel White scattone lo salutiamo spero che almeno ci stia ascoltando spero che almeno stia ascoltando ricordo agli amici a casa di scriverci i numeri al numero 393 2824 444 mandate i vostri messaggi se avete qualche domanda da proporre al nostro ospite che si chiama Vimine e collegato con i soliti social basta ricercare il nome del nostro artista su google e ritroverete sicuramente i collegamenti social Marasatei con Giorgia parentesi questa è sicuramente una bellissima canzone del panorama italiano poi con una grande artista come Giorgia mi ha colpito la scelta di questo brano che è legata a te per quale motivo? allora questa cover l'ho cantata recentemente penso che comunque Marasatei sia una delle poche italiane che faccia appunto R&B quindi mi sono voluto confrontare con questa sua canzone che mi ha colpito sin dall'inizio quanto spazio c'è in Italia per la R&B a tuo parere? penso poco è uno stile che non ha ancora ben capito è più uno stile americano ovviamente che va più in quelle zone lì però piano piano penso che riusciremo a farci sentire di più con la R&B quindi tu ti rivolgi a una fetta di pubblico che è limitata cioè già parti un po' in vantaggio io devo dire che però a me appassiona molto sentire questo tipo di musica anche in alcuni particolari momenti della giornata ti aiutano un attimino a passare meglio la situazione perché sono delle frequenze, dei suoni che ti portano un attimino al relax e anche al pensare più tranquillo si utilizza la musica, io utilizzo la musica tu invece Angel White no so che fai uso di polvere stupefacente hai visto che Paolo anch'io hai visto? sono riuscito a farti parlare beh sì mi chiamati in causa perché lo sapevo che andavo a toccare un tasto molto particolare quindi certo la scelta musicale a uno può piacere o non può piacere però la musica è bella tutta aspetta ho detto tutta? no no va bene va bene sì e sono gusti che gustibus? come dicevano chi diceva così? i latini? hai fatto il classico? no nemmeno io quindi tranquillo tutto apposto scegliere già di percorrere una strada quasi in salita significa essere forti però significa seguire la propria passione quando uno si avvicina alla musica di solito dietro c'è qualcuno che te la fa piacere nel senso che ti porta verso quella strada per te nel tuo caso c'è stato qualcuno papà, mamma, un fratello, un amico o una situazione che ha detto no a me piace questa musica la devo fare allora ti dico la verità inizialmente era un genere che non prendevo in considerazione però appunto da quando ho iniziato a studiare canto nella mia accademia con appunto il mio professore Domenico Giannini abbiamo iniziato a fare un lavoro con questi brani per vedere se la mia voce andasse bene con questo stile in effetti poi mi è piaciuto e sto continuando con l'R&B certo che provare un genere musicale è come provare un paio di scarpe se ti stanno bene continui a portare se no devi cambiare ipoteticamente non ti sarebbe piaciuta l'R&B su cosa avresti optato? penso sul pop moderno comunque rimanerei nella... perché non sono un tipo che ascolta vari generi quindi o il pop o l'R&B quella roba di R&B benissimo e chi ti ha portato poi a decidere di iscriverti all'Accademia Musicale invece? allora da solo perché tutto è partito nel periodo del lockdown dove ho iniziato a partecipare a dei contest di canto tramite social e da lì ho mandato un video amatoriale e da quel video sono stato preso per la fase finale dove mi hanno convocato a Roma a cantare dal vivo infatti quella è stata la mia prima volta che ho cantato davanti a quelle poche persone che era verso settembre, ottobre quindi un po' si era alleggerita la situazione e quindi da lì poi nel novembre mi sono iscritto a scuola di canto perché comunque ho avuto dei consensi, delle approvazioni da parte della giuria e mi sono convinto che era la mia strada questa è un'ottima spiegazione cioè la strada è stata quella giusta questa è proprio la motivazione che dici che la pandemia ha portato qualcosa di buono anche più che altro penso che non credevo al destino però con vari momenti che sto affrontando perché comunque ne venivo sempre da otto anni di attività commerciale ho avuto una pizzeria che gestivo con la mia famiglia abbiamo deciso di venderla perché comunque il lockdown non ci stava aiutando ed è proprio capitato che con la vendita dell'attività ho iniziato a intraprendere questa strada quindi il destino quindi sembrava fatta una cosa apposta proprio di chiudere un capitolo e iniziarne un altro che è molto bella come immagine è molto 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 bella perché poi ti riporta al discorso che si può sempre rinascere certo con le proprie forze e ricostruire il proprio percorso è molto bello da parte tua darci queste spiegazioni che sono personali mi rendo conto uno potrebbe pure dire una certa ma si aiutano però comunque a farmi a far conoscere comunque la mia storia di come ci sono arrivato a questo punto allora io continuerei ancora con la tua musica ricordo agli amici a casa come sempre che sono in ascolto stiamo con Vimine ci sta raccontando il suo percorso musicale e pian piano lo stiamo conoscendo vi invito come sempre a seguire i social e vi invito come sempre ad ascoltare sempre la nostra musica il prossimo brano nella nostra playlist anzi nella playlist di Vimine e di Imagine Dragons li ascoltiamo Vimine 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 Oh baby, good love and protection Oh, make me your selection Show you the way love's supposed to be Baby, you select me You deserve better You know you deserve better We should be together, girl Baby, with me and you it's whatever, girl Hey, so can we make this thing ours? You should let me love you Let me be the one to give Everything you need Say everything Will you take me, baby? Baby, you should let me love you And we need the one to give Everything you need That good love and protection Make me your selection Show you the way love's supposed to be Baby, you should let me love you Ed eccoci tornati amici di Radio.musica Con We Believe in Music Il sabato pomeriggio dalle 17 in poi Con il nostro ospite quest'oggi Vimine No, ma ragazzi Io fino a fine puntata giro il Ciro Se stavo a scattone già mi avrebbe tirato Già le orecchie Abbiamo ascoltato in sequenza Gli Imagine Dragons E poi Mario con Let Me Love You Che è una canzone A dir poco stupenda Evviamente si capisce che sono Che fanno parte del tuo Del tuo io, del tuo essere Perché sono brani più o meno simili Ma Mario Mario Oh È pazzesco Mario, no? Sì, in questo brano Quello di Mario Ho aggiunto Nella stro Nella seconda No, nelle due In tutte e due le strofe Le mie barre Quindi è una cover Che quando canto Comunque al posto delle strofe sue Ci metto in italiano Le mie barre Ecco, questa è l'altra domanda Che mi viene spontanea Il tuo genere musicale Si presta bene in inglese, no? Sì Ma in italiano Che effetto fa? A tuo parere Scrivere in italiano Piuttosto che in inglese Sì, si fa un po' più di fatica Perché comunque Devi cercare di Con il testo Comunque con la top line La melodia Di far incastrare bene Con la musica Il testo Certo Però Alla fine Una volta che inizi Comunque È un gioco da ragazzi Diciamo Devi farlo funzionare Quando inizi a scrivere Da cosa parti? Qual è la roba Che ti dà la scintilla Per dire Qua ci devo scrivere Due parole E tiro fuori un disco? Allora Trovo ovviamente Il soggetto Penso comunque O a Degli eventi Comunque Che hanno caratterizzato La mia vita Cerco anche Di usare delle immagini Quindi Quello che immagino Cerco di scriverlo In modo tale Che uno Quando ascolta Il mio brano Immagina anche lui Visivamente Quello che può Quello che sta accadendo Nel brano È complicato Portare L'ascoltatore A immaginare Quello che tu Avevi Beh ovviamente Può essere soggettivo Perché ovviamente Quello che uno Immagina Poi lo fa Lo fa Lo cala Nella sua Nella sua vita Soprattutto È importante Questo Quando si ascolta Un brano Imedesimarsi Un attimino Nel testo Perché spesso È un errore Che fanno Molti ascoltatori Passivi Cioè L'ascoltatore passivo È quello che ascolta Il brano E gli piace più La melodia Piuttosto che il testo Anche molti Non capiscono L'inglese Però dice Bella sta canzone Ma a volte Vi siete resi conto Di cosa dice Una canzone In inglese Sì Quando vai a fare La traduzione In effetti Ti rendi conto Che le frasi Non combaciano Nemmeno tra di loro Sono frasi scritte Così a sé Così a caso Vero Spesso è un errore Che si fa Però è chiaro Che non tutti Gli ascoltatori Sono uguali E spesso Piace più Qualcuno Che scrive A vanvera Piuttosto che Una penna Un po' più seria Un po' più Ponderata Più Fatta con uno Un certo studio I due brani Sono ovviamente Fanno parte Della tua playlist Lo voglio ricordare Gli amici a casa E il sabato pomeriggio La playlist musicale Non la scegliamo noi Ma la sceglie Prattamente il nostro ospite Ci ha fatto piacere Ad ogni modo Che tu Abbi accettato Il nostro invito E ci sta facendo piacere Conoscerti Nel tuo percorso musicale Che È fatto bene C'è tutto lo studio Il fatto di andare a scuola A imparare Piuttosto che essere Come si dice Quando uno Fa a casa Autodidatta Sì Autodidatta E anche il fatto di scrivere Non è facile Non è per tutti Scrivere una canzone Bisogna avere anche Una certa predisposizione Una certa Fantasia Immaginazione Anche che se spesso Come dicevi tu Si fa riferimento A cose Successe veramente Poi da lì C'è Lo start Alla scrittura L'input Scusate ma C'ho L'air conditioning Che mi porta Sta roba Allora Caro Vimine Ormai La puntata È improntata Su questo nome Che non riesco A pronunciare oggi Farò degli esercizi Di Cambiare il nome d'arte Ci sto pensando A cambiarlo Ma per me Che non riesco a dirlo Ti ringrazio Mi sembra Trovo altre Mi sembra un po' Troppo Eccessiva La domanda più comune Ed è il momento Sicuramente di farla È quella che ci arriva Sempre sul nostro profilo Instagram Dove noi lanciamo Il sondaggio Con quale domanda Vuoi fare al nostro ospite Ed è il tuo rapporto Con i talent musicali Cosa ne pensi? Sicuramente Hai un ottimo occhio Perché hai già parlato Che hai partecipato A un contest Sì Ed è quello che Però Per fare un X Factor O un The Voice Lo farò ancora A The Voice No Però io ritengo Che quello Per gli artisti Più importante Sia X Factor Piuttosto che amici Sì Sì Con i talent Comunque Ho Un ottimo Giudice Comunque Li guardo Ti seguo Ovviamente Ci sono È un po' difficile Comunque Entrarci Perché Comunque Devi sempre avere Una spinta Di qualcuno Alle spalle Che ti propone E Quindi Non ti nascondo Che ho provato Per due anni Sì quest'anno L'anno scorso Comunque A entrare a X Factor Ho mandato il provino Però purtroppo Niente Non ancora Anche se In quel In quel genere Di talent Cercano dei progetti Cercano dei progetti Comunque già Pronti e Stabiliti Quindi ovviamente Io sono ancora All'inizio Forse Ho ancora Dei margini Di età Perché per amici Penso Sono già fuori Perché lì vanno Più sui giovani Fino a una certa età 25 Per X Factor Penso che L'anno prossimo Di riprovarci Sì Ottimo Vediamo come va E il tuo pensiero E quello che ci interessa Il prossimo brano In scaletta È sempre una proposta musicale Del nostro ospite E lo ascoltiamo Come sempre Poi ce ne parli Un pochettino tu Ok Grazie 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 Ora dopo ora Radio.musica Radio.musica Ben ritrovati amici Bentornati We Believe in Music In diretta radiofonica Il sabato pomeriggio Dalle 17 in poi Come sempre C'è ancora con noi Il nostro Vimine Ospite Della nostra puntata Il brano che abbiamo ascoltato Non lo so dire Vimine Lo puoi dire tu per favore Di Fauzia Oh Tales of Gold Sì Esatto Proprio quello Proprio quello E lo abbiamo ascoltato Come proposta musicale Del tuo percorso Ci spieghi anche un pochettino Perché di questo Allora Fauzia è una cantante Che ho scoperto Da poco Ascoltando Su Spotify E Ho voluto Cantare Un paio di canzoni Delle sue canzoni Per Comunque Quando canti una cover Cercano sempre di Vedere se La tua voce Può portare Comunque A distaccarsi Dall'originale Quindi ho appunto Preso questa cantante Per Che ovviamente È una voce femminile Per fare questa prova Per vedere Come ci stavo Nelle sue canzoni Comunque Rispecchiano sempre Lo stile Che faccio Quindi Quindi la sperimentazione Rientra nel ruolo Anche dell'artista E capire anche Se si può Cimentare In Alcuni tipi di Sonorità Perché no Questo il lavoro Ti riempie il giorno A tempo pieno O riesci A combinare Anche altro Beh sì Alcuni giorni Sì Riempie A tempo pieno Sì Tutta la giornata Ti dedichi a questa La tua passione Che Vuoi che Magari Potesse Possa diventare Un lavoro E perché no Quello che ci auguriamo Insomma Certo Certo Allora Ricordiamo che Vimine Viene da Cerignola Sì Si è fatto un viaggetto Per stare con noi Non fa niente E valsa la pena Dici Abbiamo ancora finito La puntata Poi non hai conosciuto Scat Che È un personaggio Non so se Dopo averlo conosciuto Penserai Forse Forse ci sarà Un intervento telefonico Forse Vuole fare la baldone È sempre presente So che ci sta ascoltando E so che potrebbe intervenire Da un momento all'altro Ok Non ci sta Stiamo conoscendo Vimine Il suo percorso musicale Qui a We Believe in Music Ricordate amici a casa Sempre il numero Whatsapp 393 2824 444 E potete anche Mandare un vocale Se volete E se non vi va Di scrivere Basta schiacciare Il pulsantino E ci sta Radio.musica Ci ascoltate Online www.radio.musica.com Sulle applicazioni Ufficiali Di iOS Android Basta scaricare L'applicazione Dove c'è Anche quella video E c'è quella Bella faccia Di Angel White Che quella mia Non va bene Cioè Siete più belli voi Nel video Io vi sto guardando Ah ok Venite meglio Tutti e due Che io Angel Se puoi evitare Le inquadrature Poco ortodosse Per me Andrebbe meglio Il prossimo brano In scaletta È tuo È Cantato Scritto È Tutto Fatto Da te Si chiama Perfetta Così Ne vuoi parlare Adesso Un pochettino E dopo magari Ci aggiungiamo Dopo l'ascolto Allora Perfetta Così è stato Il mio primo singolo Il singolo Di debutto Che è uscito Il 6 maggio Del 2021 Il 5 maggio Scusate Del 2021 Parla Di Di un'amicizia Che ho Tuttora Da parecchi anni Sarà una ventina Di anni Con una mia amica E quindi L'ho rivolta A lei Parlo di Di questa amicizia Che Si può anche Trasformare A volte In amore C'è uno Quando c'è un amicizio Si dice che tra uomo e donna L'amicizia Non può Non esiste Però Nel mio caso Comunque Funziona Tuttora Però Non ti nascondo Che alcune volte C'è stato quel pensiero Di Propormi Però lì Entra in gioco La preoccupazione Che Se ti proponi La persona che è di fronte Può prenderla In maniera Sbagliata E quindi Lì Ti manda a quel paese E rovini Sia l'amicizia Questo è il grande dilemma Questo è il grande dilemma In quel caso Ho preferito Rimanere al posto mio E andare avanti Con la bella amicizia Che Tuttora Comunque C'è Lasciare il mondo com'è Come diceva Pezzali Se sei amico di una donna Non ci combinerai Ma è niente È la regola dell'amico Però Il dilemma Più grande Dell'uomo E la donna È proprio questo Vivere poi Con questo Pensiero Chissà Insomma Vediamo gli amici a casa Cosa ne pensano Si può essere amici Di una donna Metti il disco Ho un ricordo di te Voglio chiederlo al tempo Anche se Basta un attimo E poi Per riviverlo in noi E lo sai Ora che sono qui Nulla è impossibile Aiutami a vivere Aiutami a vivere Il seguo di quest'altro film È un gioco di sguardi Normale riepilogo Che quando lo avverti Si accende l'universo qui Da quello che sento In quel preciso momento Perfetta così Parlo e rido Con te Di racconti Così Semplice La fiducia Tra noi È il segreto Che dà Sintonia Ora che sono qui Tutto è impossibile Aiutami a scrivere Che il seguo di quest'altro film È un gioco di sguardi Normale riepilogo Che quando lo avverti Si accende l'universo qui Da quello che sento In quel preciso momento Perfetta così E ora mi guardi Si accende la notte Non so immaginare La fine di quest'altro film È un gioco di sguardi Normale riepilogo Che quando lo avverti Si accende l'universo qui Da quello che sento In quel preciso momento Perfetta così Perfetta così E questa era perfetta Così di Vimine Ospite con noi A We Believe in Music Radio.musica In diretta radiofonica Ben ritrovati Amici all'ascolto Prima parlavamo Dell'amicizia Tra uomo e donna Proprio perché Come ci ha raccontato Il nostro ospite Questa canzone È legata A questa Diatriba Che fa parte Degli annali Della storia Dell'uomo Della terra Quando è nato Secondo te Adam e Dib Erano amici No Boom Un ottimo ascolto Un sound Un pochettino diverso Ne parlavamo Nel fuori onda Proprio perché Questo è il tuo Primo progetto È la tua Prima sperimentazione Musicale Che poi ti ha portato A creare Tanto e tanto altro E tanto ti porterà A scrivere E a creare Questo è quello Che ci auguriamo È stata Una prova Per entrare Appunto Nel mondo Della musica Delle piattaforme Digitali E in effetti Come suono È un suono Molto più D'impatto Un po' più Che tende All'elettronica E Sì Ho voluto Un po' togliere Perché È un genere Che non tutti Possono Certo Ascoltare Quindi Ho cercato Di fare qualcosa Di più semplice Più Leggero Comunque è un'ottima Un'ottima produzione Un'ottimo prodotto Il sound c'è E può anche rimanere Cioè si può ricordare Questa canzone Sì Alla fine comunque In un disco Devi sempre trovare Comunque Delle diversità Perché comunque Anche ascoltare un concerto Tutto di Di musica Molto lenta Molto In effetti Porta a stancare Quindi comunque Ci sta il brano in mezzo Che è un po' più Da ballare Un po' più Leggero Allora Abbiamo una telefonata In diretta Sì Ho paura Di Anche io Di capire Chi sia dall'altra parte No Non avere paura E quando sono solo Non avere paura Buonasera a tutti Scusate per la mia assenza Buonasera Com'è state ragazzi? Buonasera Scadiene bene Chiedo scusa Al nostro amico ospite Al mio caro amico Vincenzo Chiedo scusa per la mia assenza Non ti preoccupare Ci rivengo un'altra volta Al prossimo brano Visto che visto Sono convinto Che i miei due Compagneros Ti abbiano Diciamo così Raccomandato E dato il benvenuto Nel migliore dei modi Sì sì assolutamente Sì Abbiamo la scusa Per rivederci Facciamo così Ho sentito Un attimo solo Vi ascoltavo Perché qualcuno Ha detto Che Scattone Mi avrebbe ripreso Che cosa è successo? No Scattone Ah sulla mia Sul fatto che non riesco A pronunciare In modo impeccabile Il nome del nostro ospite Ah mannaggia È sempre che mi fai fare le figure Eh no Si chiama Vimine Tu lo sapevi? Assolutamente sì L'ho studiato io Allora Io ho accanto a studio Tu l'hai studiato Però Occorre che tu sappia Che tra Vimine E We Believe in Music C'è È un casino Hai capito? In realtà io non sono venuto Proprio per quello Scherzi a parte Io sono sempre Sono a Bari Sono Oggi c'è stata È appena terminato Ecco perché ho avuto Modo di Di ascoltarvi C'è stata la seconda giornata Della Volle S3 Indirizzata Dalla Federazione Italiana Pallavolo Qui c'è un certo Andrea Lucchetti Non so se lo conoscete Eh come no Come no Io gioco Pallavolo Vedi Vedi Era tutto collegato Caro scattone Quindi oggi Sono stato qui In questa bella Cornice di Bari Del CUS Dove CUS Non è una parolaccia Ma è il centro universitario sportivo Mannaggia Aspetta Ti devi sempre fare I riferimenti Lo sappiamo che significa CUS Eh ok Ma ho visto Zio Pino Ho visto bene Hai visto bene Sì Zio Pino Ho fatto il nostro Il nostro Non avete il bottone oggi Non si strucca i bottoni Non si strucca i bottoni Ok E allora faccio una cosa Tu fammi la presentazione Che ti faccio il bottone No che presentazione No no Ti sta già ascoltando Quindi ha già pergine E allora lo faccio io Ciao Zio Pino Come va Scatti C'è Graniti Caspita Eh vabbè Oggi dovevo Oggi dovevo Per la Federazione Italiana Pallavolo La Federazione Nazionale Stai insieme A un esponente Della Pallavolo E quindi ha detto Preferisco stare con Quali Bortanti Oggi No mi hanno proprio Mi hanno preso dalla sede Devi venire qua Anche perché come Come qualcuno sa Io Ho una Sono lo speaker ufficiale Della Volleyup Che è una Una società Pallavolistica di Acquaviva E quindi Siccome ci sono anche loro Mi hanno preso E portato qui Questo sabato Quindi questo sabato Ahimè non sono con voi Beh Ma so che mi state divertendo Ah ce l'avevo Ce l'avevo Va bene Io devo fare i complimenti All'artista Perché Come al solito Io ho portato un buon artista Eh vedi Radio.musica Ha sempre buona musica E Vimine È l'ennesima dimostrazione A questo caso Che il mio servizio di redazione Fuziona Fuziona Grazie Anche come dico sempre Anche se non ho la voce È bella Eh smettila Con questa storia Basta Intanto ti ricordo Che con noi oggi Non c'è solo Vimine Ma c'è anche Il secondo ospite musicale Che lo conosceremo Ah sono arrivati anche loro Sono arrivati Sono nel backstage Della radio Non si sono ancora affacciati Però Va bene Allora io vi saluto già Saluto già le Alice Saluto Gli amici Alice Che sono stati già con noi Io lo sapevo Che mi doveva spoilerare Gli ospiti di dopo Non l'ho detto Non l'ho detto Ormai l'hanno visto Su Instagram Quindi si sa E che significa Però tu crei Nella messa in onda Suspense Suspense Caro scattone Va bene Posso fare una domanda A Vimine Come no Dimmi Cosa ne pensi Dei talent No Capisci perché te l'ho fatta Eri molto attento Vido nella Nella diretta No l'ho fatto L'ho fatto di proposito L'ho fatto di proposito Sì sì Tra un minuto e l'altro Qui di assenso Sono riuscito ad ascoltarvi Ammetto Non sono stato un ascoltatore assiduo Mia colpa Causa lavoro Come avevo detto Sì sì Prima il lavoro Lo ascolterò Tranquillamente Nel divano di casa mia Nel podcast Che poi andremo A inserire Sui maggiori canali Di streaming O me la prendo O me la prendo Va bene ragazzi Io vi saluto Non vi tolgo Altro tempo Ciao bello mio Ci vediamo Ringrazio per una volta Vimine Per la sua presenza Ringrazio gli ospiti Che stanno arrivando Che non sappiamo il nome Che stanno qua Mi raccomando Ci risentiamo Alla prossima puntata Di We Believe in Music Ciao Scott Ciao 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 Franci Abbiamo ascoltato la voce Del nostro scattone Del nostro collaboratore Presentatore Conduttore Di We Believe in Music Oggi era assente Si è fatto sentire Io manderei un disco E poi tra poco Ritorniamo con i nostri ospiti Si è fatto sentire Grazie a tutti 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 Ascoltando queste canzoni mi è venuto a mente un artista che questo tipo di musica lo ha portato proprio in un talent Forse ho capito E in effetti in Italia forse all'epoca non funzionava rispetto adesso e quindi non si sente più oppure comunque fa qualcosa però non alla portata degli altri ragazzi che sono usciti comunque da amici E' una cosa un po' per adulti Si è lanciato più sull'epoca e si è lanciato più sulla musica tipo discoteca tipo fa dei duetti con dei DJ famosi perché in effetti quando uno poi vede che non va una cosa cerca di... Se è la passione è una passione è una passione è quello che avevamo un'epoca... Allora devo ricordarvi che intanto qui a San Michele di Bari dove è sede della nostra radio questo sabato prossimo 18 giugno 2022 alle ore 20 l'associazione Caracciolo presenta un evento proprio che riguarda la musica e la radio e vi invito a essere presenti a questa manifestazione che si terrà esattamente sabato prossimo si chiama appunto amo la radio ci saranno degli interventi di grossi lustri tecnici del settore saremo in piazza proprio qui a San Michele di Bari associazione Caracciolo con radio.musica amo la radio proprio dalla musica analogica possiamo chiamarla così allo streaming digitale a tutte le tecnologie che hanno modificato la radio nella sua trasmissione nel suo essere quindi vi invito sabato prossimo 18 giugno alle ore 20 nell'atrio Castello Caracciolo a San Michele di Bari e ci sarà anche il nostro direttore ci sarà la direttrice artistica Liliana De Jure e da lì un sacco di ospiti e tecnici del settore tu da Cerinola non potrai sicuramente farti il viaggetto cerco di esserci dai però l'argomento è interessante perché si parlerà di come si è evoluta la radio in questi anni ve lo ripeto ancora sabato 18 giugno 2022 alle ore 20 atrio Castello Caracciolo appunto radio.musica insieme all'associazione Caracciolo amo la radio caro Vimine il tuo invece pensiero nei confronti della radio qual è? che è uno strumento comunque indispensabile comunque ti fa se non ci fosse stata la radio penso che la radio sia un gradino più in alto delle piattaforme digitali perché comunque non tutti hanno la possibilità oppure scaricano l'applicazione sul cellulare la radio comunque è più facile arrivarci semplicemente da internet ci va con un link la segui o nella televisione quindi penso che comunque è un ottimo strumento per far conoscere la propria musica quando accendi l'auto la prima cosa che fai è la radio è accendere la radio non si può fare un viaggio senza radio cioè così spenta nella macchina assolutamente che tristezza infatti infatti ma quella ormai si accende in automatico dovrebbero fare delle macchine che appena entri si accende da solo la macchina senza senza schiacciare per come la tecnologia va avanti e vabbè ormai si è arrivato quasi a quello se nelle auto la prima cosa che si accende semplicemente inserendo la chiave prima di mettere in moto è proprio l'autoradio quindi si va perché la musica e la radio accompagnano nella vita qualsiasi persona e fa parte entri in un negozio in un supermercato c'è la musica c'è la radio la radiovisione la radio normale quella che volete ma è sempre radio ecco perché questo è il mondo che ci affascina e che ci porta a farne parte anche se nel nostro piccolo mondo e a far conoscere anche la musica che non conosciamo grazie alla radio che ci si conosce si interagisce poi oggi con la tecnologia whatsapp e social riesce ad arrivare anche all'ultimo spettatore prima c'erano le telefonate si facevano chiamate al numero fai la tua dedica eccetera eccetera ed era bello anche quello il prossimo brano fa parte sempre della tua playlist ed è un artista che a me sinceramente piace molto lo seguo da poco perché sinceramente mi sono avvicinato a questo artista grazie a voi che siete venuti parlo degli emergenti che molti di voi si affiancano a questo artista sto parlando di Gaemon e la canzone si chiama Rose e Viola l'ascoltiamo come sempre poi ne parliamo insieme dieci fori di proiettili nell'anime e il cuore ricolmo di sassi la strada del ritorno l'ho segnata sulla mappa dei miei passi falsi frasi squisite quelle tue che ora sanno di cibo per gatti ma sta nel gioco delle parti o carezzerò le tue mille spine sarò fragile rose e viola stese sulle lenzuola come tutte le notti in cui te ne stai da sola nodi in gola ed il trucco che cola come tutte le notti in cui proprio lui ti trova lo sguardo segue fiero nello specchio questa linea curva lungo i fianchi mi fai sentire nuda ancora prima di sfogliarmi tu sei il pensiero nero tu sei il pensiero nero che mi culle anche stanotte scapperai su un taxi com'è difficile salvarsi rose e viola stese sulle lenzuola come tutte le notti in cui te ne stai da sola nodi in gola ed il trucco che cola come tutte le notti in cui proprio lui ti trova gli occhi perdonano per uno come te te anche se dico no resti dentro di me resti dentro di me rose e viola stese sulle lenzuola come tutte le notti in cui te ne stai da sola nodi in gola ed il trucco che cola come tutte le notti in cui proprio lui ti trova rose e viola queste erano le rose e viola di Gaemon ancora una proposta musicale del nostro vimine con noi questo pomeriggio sta trascorrendo è volata via un'ora un'ora e venti di trasmissione parlando e chiacchierando del più del meno e soprattutto di quello che è il tuo percorso musicale Gaemon perché ti piace Gaemon? Gaemon è ovviamente il pensiero che avevo su Mara Satè che per me è la donna la cantante donna che fa R&B per me Gaemon è il cantante maschio per i miei gusti ovviamente è un'eccellenza che comunque canta R&B e quindi mi ci rivedo per quello fate un bel sound che ti porta vedi poi questo cantato che ti entra io ti ho detto ho imparato a conoscerlo grazie a voi sono contento poi io penso che bisogna essere così appassionarsi a tanti artisti io faccio così cerco di sentire quanto più possibile musica e generi musicali certo e posso dire di un certo tipo di genere quello no vabbè non voglio discriminare nessuno caro 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 vimine purtroppo è arrivato il momento dei saluti con noi che dopo diamo spazio ad altri due artisti che sono già stati ospiti con noi ma vanno a presentare il prossimo il loro nuovo singolo e sono contento di ritrovarli e ti ringrazio per questa chiacchierata molto tranquilla insieme e ti auguro di ritrovarti presto qui da noi magari con un nuovo disco con un EP con qualcosa che ti faccia realizzare quello che tu effettivamente voglia realizzare da questo da questo percorso si grazie grazie a voi per avermi dato comunque la possibilità di fare questa nuova esperienza perché comunque è stata la prima la prima mia esperienza in radio e mi sono trovato molto bene ho passato un bel pomeriggio mi sono divertito grazie grazie quindi spero ci sia una prossima volta molto volentieri le nostre porte sono sempre aperte per chi ci porta le novità e soprattutto per chi sta salendo nella scaletta del successo che è quello che vogliamo avere speriamo dai ci sta ci sta ce lo auguriamo speriamo anche che We Believe in Music che il radio.musica ti portino fortuna in questo senso ok grazie amico mio grazie a voi ricordo gli amici di andare sui social del nostro Vimine di cercare Instagram Facebook Spotify Twitter e chi più ne ha più ne metta andate subito a seguire perché anche questo farà crescere di quel pochino in più il nostro artista grazie Vimine grazie a voi Angel White come sei messo mettiamo un disco prima dei prossimi ok lo ascoltiamo tra poco rimanete con noi grazie a voi 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 ben ritrovati amici ho avuto problemi tutto il pomeriggio per annunciare questo nome tutta la sua carriera sarà imputata su questo mio problema spero di no è arrivato il momento invece di presentarvi anzi di ritrovare questi amici che sono già stati con noi we believe in music e con piacere e con piacere e con piacere li ritroviamo con noi perché hanno il loro nuovo progetto da presentare noi subito ci siamo presenti signori e signori con noi c'è Alice ben trovati buonasera buon pomeriggio grazie per averci invitato per noi è come tornare a casa grazie sono belle parole anche perché è cambiato un po' il contenitore ma la radio insomma la radio è la radio è quello che bisogna fare mi fa piacere di trovarvi ragazzi soprattutto perché avete questo nuovo progetto da presentare significa che state lavorando e che il vostro percorso sta andando bene io vi ho seguito un pochettino sui social vi seguo un pochettino da qualche anno e questo stop della pandemia un pochettino ci ha resettati però vedi che tiravamo fuori delle cose belle per fortuna ci parlate un po' di questo progetto certo allora noi siamo qui per presentarvi il nostro ultimo brano che si chiama sigarette allora sigarette è una storia d'amore una storia d'amore però un po' complicata perché non ben vista dalla società in quanto molto spesso amare oltre un certo limite di età molto spesso è considerato vergognoso e sosteniamo che l'amore non debba avere limiti d'età differenze di età di genere o di colore arrivate proprio nel periodo del pride perché so che in giro c'è il tour del pride quindi avete non era voluto non ci avevamo pensato pensate che fosse fatto apposta però è una coincidenza strana che il brano ci hai fatto pensare tu in realtà non l'avevamo pensato l'ho letto un pochettino sui social c'è tutto il pride in giro l'amore è universale esatto e il brano come vedi lo sto scoprendo adesso con te esatto e il simbolo della sigaretta perché molto spesso la sigaretta è quel simbolo che ci rende grandi anche quando non lo usiamo ancora erroneamente però è proprio nel fumo di quella sigaretta che si annullano le distanze tra i due protagonisti e si rafforzano le affinità cadono tutti i pregiudizi e tutto quello che resta è una bella serata dove tenersi per mano respirare la stessa aria e sembra che quasi il mondo sia dalla parte dei due protagonisti non sei poetica ragazzi ecco come ci ho fatto parlare lei questo romanticismo a quest'ora guarda ci sta brava vedi poi spiegato proprio il migliore dei modi io non vedo l'ora di ascoltare questa canzone intanto ricordiamo gli amici a casa i vostri social così possono andare già a fare un pre-ascolto di questa di questa nuova produzione allora su instagram ci trovate come musica underscore alice ho scritto alice come alice c apostrofo e con l'accento perfetto facebook alice ok quindi su spotify invece c'è la vostra playlist lo ricordiamo dove non c'è solo sigarette ma c'è sicuramente tutta la vostra produzione i vostri progetti e vi ho visto che avete anche fatto qualcosina nella vostra città è vero qualche esibizione live su bari su bari era voi siete di conversanza no casa massima e bitonto siamo divisi in due non ci sta scattone quello le fa lui queste cose ragazzi io sto scherzando ho confuso un pochettino forse gli eventi però io ho visto un'esibizione a conversano al primo maggio eravamo finalisti del primo maggio a conversano ti ho detto che li ho visti a conversano io pensavo fossi di conversano casa massima possiamo ascoltare il brano angel io direi che è arrivato il momento ti abbiamo tenuto un po' troppo sulle spine l'ho detto dall'inizio che voi eravate con noi e lo ascoltiamo poi dopo ne parliamo ancora un pochettino va bene dammi una sigaretta anche se sai che non fumo mai mi serve per tenerti qui per rubarti un po' di tempo tanto lo sai che non fumo siamo qui raccontami una storia non mi va di tornare a casa resto un po' qui con te dammi una sigaretta tanto lo so che fa solo male parlami della tua storia con la tipa che ti piace passami l'acendino brucerò come nicotino tanto fingo di ascoltarti di lei non me ne frega niente giurami che resti qui che mi racconti dei tuoi viaggi al mare delle speranze di una vita nuova di quel locale in centro a Bologna giurami che resti qui fummi milioni di sigarette giurami che resti qui ho bisogno solo dei tuoi occhi lo sai che mi piace guardarti ascoltare quello che non dici lo sai che mi piace guardarti e capire quello che non dici mi fai sentire piccola i tuoi occhi fari nella notte io pensai in una foresta e tu lo spettacolo dell'Himalaya giurami che resti qui che mi racconti dei tuoi viaggi al mare delle speranze di una vita nuova di quel locale in centro a Bologna giurami che resti qui fumi milioni di sigarette giurami che resti qui ho bisogno solo dei tuoi occhi lo sai che mi piace ascoltarti immaginare quello che mi dici lo sai che mi piace sognare di vivere quello che dici tu forse non lo sai che mi smonti e mi rimonti mi porti da tutt'altra parte mentre fummi quella sigaretta ma giurami che resti qui che mi racconti dei tuoi viaggi al mare delle speranze di una vita nuova di quel locale in centro a Bologna giurami che resti qui fumi milioni di sigarette giurami che resti qui ho bisogno solo dei tuoi occhi che bella questa sera qui io e te mano nella mano che respiriamo questa stessa aria che giriamo insieme con il mondo io e te mano a mano che respiriamo la stessa aria cioè è un'immagine come hai detto tu è romantica cioè due persone che a prescindere da quello dall'età dal sesso come dicevamo prima e da tutto quello che si può dire diverso l'amore è uno solo è uno solo Vimine che ne pensi tu gli puoi dare il microfono per favore visto che sta con noi non fa la bella traduina sì ascolta la portata un bel brano sì è scritto una bella voce è gelare grazie è un po' fuori ah ok è arrivato è arrivato mentre lui la parte musicale giusto non ho sentito io bene no io non canto ah ok sei tu la cantante ho scritto ah ok perfetto dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare lui invece scrive e canta lo abbiamo raccontato quest'oggi tutto il pomeriggio e tra emergenti tra cantanti dovete capirvi ragazzi un'unica family come un'unica come un unico amore e mi sono un pochettino appassionato questa canzone il primo ascolto l'ho fatto con voi in questo momento e come ti dicevo nel fuorionda probabilmente avrei dato un'interpretazione mia ma che invece si avvicina molto a quello che tu vuoi esprimere effettivamente col testo in questo caso visto che l'hai scritta tu e questa idea l'avete forgiata insieme nel testo oppure hai detto tu oggi voglio fare questa canzone l'avete maturata quando? è nata in 20 minuti cioè su su un input durante il lockdown praticamente c'era stato un corso di songwriting con Sergio Vallarino Zibba un autore per Fiorella Mannoia o Max Pezzali Giovanotti e tanti altri cioè mica pizza e fighi praticamente ci aveva dato un'idea su questa idea vedete voi avete tipo 20 minuti mezz'ora quello che scrivete scrivete cacchio come il compito in classe veloce poi ci siamo interfacciati durante il lockdown quindi non potevamo vederci quindi a distanza quante cose abbiamo fatto a distanza non appena ci siamo rivisti questa è nostra deve andare deve andare l'arrangiamento l'arrangiamento nasce da noi due ok praticamente poi portato in studio con Molla Luca Giura e poi registrato mixato e masterizzato al Kaya Studio di Rende con Vladimir Costabile che non è la prima volta che ascolto come nome e quindi un ottimo progetto io vi auguro come sempre il meglio in questa situazione grazie e ricordo sempre gli amici a casa di andare subito sui social ad ascoltare questo brano e a dedicarlo magari a una persona che se qualcuno si identifica in questo tipo di amore o di situazione sicuramente è una dedica un'ottima dedica da fare speriamo perché oh magari cioè ragazzi è un brano pazzesco devo dire perché non avendolo ascoltato prima però mi ha preso parecchio ragazzi non so se siamo contenti grazie ho poca c'ho poche parole da dire anche perché il contesto dice molto quella frase mi è rimasta proprio impressa noi due che respiriamo la stessa è un'immagine che pom la stampi soprattutto d'estate tramonto spiaggia passeggiata mano a mano cioè figo figo veramente raga posso sentire ancora un po' la vostra voce raccontatemi i vostri progetti per quest'estate cosa abbiamo in cantiere cosa ci aspettiamo da voi allora sicuramente siamo al lavoro per altri brani quindi in cantiere c'è della roba ok sicuramente quest'estate ci aspettiamo di suonare live quindi magari venite a trovarci io me lo auguro ragazzi sarebbe bellissimo ascoltarvi dal vivo e magari ritorno a dire agli amici di rimanere connessi con voi da poter sapere dove e quando potrete esibirvi e ascoltare poi la vostra musica e restate anche connessi perché a breve uscirà anche il video ufficiale di sigarette eccolo e io lo andrò a vedere perché già me la immagino la scenografia la fotografia perché voi regalate sempre delle cose carine delle cose belle anche nei video quello che ricordo adesso sono passati credo due anni prima era prima del lockdown che ci siamo visti se non era subito dopo il primo poi ci siamo ribloccati avevamo le mascherine esatto esatto c'era tutta quella roba è stato un incontro era il nostro primo inedito il primo inedito si ricordavo nel frattempo sono passati altri tre un po' di fortuna abbiamo portato sì sì un po' di fortuna mi prende un po' il merito ragazzi c'è quello che mi fa dei brutti cenni che dice che dobbiamo chiudere però io mi auguro di ritrovarvi per il prossimo e il prossimo e il prossimo e il prossimo tanti altri ancora singoli da far conoscere gli amici a casa grazie ancora e noi saremo sempre qui grazie a voi signori ringrazio ancora una volta Vimine che è rimasto con noi Alice con sigarette invito ancora nuovamente all'ascolto online vi do appuntamento a sabato prossimo con una siamo in onda sabato prossimo sì no c'è la manifestazione qui sì quindi facciamo passo sabato prossimo e abbiamo una sorpresa quindi fra due sabati abbiamo un ospite non vi dico niente non vi dico niente intanto rimanete connessi sempre con radio.musica we believe in music grazie a Angel White scattone ormai ciao fate i bravi e buon sabato sera a tutti ciao ragazzi ciao 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 we believe in music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato notizie interviste curiosità dedicate ad artisti internazionali italiani ma anche a quelli di casa nostra il sabato dalle 17 we believe in music in diretta con Kiko Shkat e la regia di Angel White DJ microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica